Patrimoni materiali dell'UNESCO, si parla dei talami di Orzogna in questo caso e allora c'è anche una comunione insieme ai cosiddetti misteri di Campobasso. Un'unione che vuole portare più attenzione, come si svolgerà? Abbiamo trovato un forte collegamento con i misteri di Campobasso che ricordiamo che è una festa che si fa il Corpus Domini anche perché hanno delle similitudini a livello di organizzative. Loro hanno 13 misteri che però sono sempre gli stessi noi invece abbiamo sei talami che di anno in anno, in base all'argomento quest'anno non si vive di solo pane, cambiano quindi con personaggi nuovi, scene della Bibbia nuove per cui io credo che bisogna tornare alla tradizione e per chi ci crede, per un ritorno a quella che è la cristianità, i valori veri dell'uomo e per la tradizione, per la cultura che sono uniche e quindi noi possiamo e dobbiamo assolutamente presentare ai nostri turisti a coloro che vengono da fuori regione e da fuori Italia un qualcosa che non potranno vedere in nessun'altra parte del mondo. Quando si svolgerà? C'è un appuntamento che in qualche modo richiamerà più attenzione? Per noi dei Talami il 18 di aprile, il martedì dopo Pasqua per cui abbiamo ripristinato il lunedì sera alla veglia di preghiera dove si ricorda questa specie di miracolo della trasfigurazione dell'efficio della Madonna da Madonna nera in Madonna con un volto chiaro. E il martedì con i Talami, con tutta la sfilata dei Talami, dei sei Talami più dopo abbiamo ripristinato il piatto tipico dei Talami e poi il pomeriggio con la processione e con lo sbandimento dei doni votivi che la gente all'epoca dava proprio in onore della Madonna del Rifugio. Diciamo che con i misteri di Campobassi noi procederemo alla redazione di un protocollo d'intesa faremo quindi delibere dei consigli comunali proprio per arrivare poi al 24 giugno che è la data di scadenza per partecipare al bando nazionale delle Melaviglie d'Italia.